L'ultimo al sicuro chi è? No, non strecato Ma perché è che mi ha votato? Sì, strecato di m***a Mori! Sì! Ma questo signor gelatone qua dietro Vogliamo parlarne Guarda che faccia Mamma mia! È bruttissimo Sembra È proprio carino Sembra Maurizio Costanzo però Vabbè In memoria del simpatico signore Hanno creato una modalità Dove c'è il suo bel faccione O comunque è simile, giusto? È bello, no, Anna? Ti piace questa cosa? Sì, sì È bello, sì E sono diverse prove, ragazzi E sicuramente alcune di queste saranno eliminazione Per cui noi dobbiamo rimanere uniti e feroci Tutti insieme, ragazzi, ok? Ma noi lo siamo! Siamo una squadra! Duri, ragazzi Duri dobbiamo essere Perché ci sono altri Ma noi questi altri dobbiamo prenderli Rivoltarli come dei calzini, eh, ragazzi Allora, cerchiamo di capire subito che cosa bisogna fare Siete tutti nell'altra squadra Fantastica No, io sono l'altra squadra! Perfetto 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 Ma io ti ho bisogno di te! Cioè, ragazzi Io non so Non ho parole È una siga assurda Ma com'è possibile? È una siga assurda È una siga assurda Io sono triste Cerchiamo di capire che bisogna fare Dai Bisogna raccogliere la frutta Oddio Però attento all'incudine Ho sentito Hai sentito male Ai, ho preso un'incudine Sembrava una frutta Sembrava una frutta Cos'è? La frutta, ragà No Dai, me la frutta No, ragazzi Prendi le mele e le pere E io sto a rimanere a bocca asciutta De frutta Ma che dici? Che è la squadra rossa a 29? Alex, che squadra siamo noi? La squadra rossa, sì! Ma io sono triste se viene eliminata Anna E io ho preso un'altra incudine Madonna, santa Ma Diana mi interessa Ma non posso essere lieto se Anna non c'è più Ma mi dispiace anche per Fe poi, eh? Un pochino Anche a me Volevo stare con te, Lai Volevamo giocare con il cielo Red, di te non mi dispiace Perché sei stupido Ecco perché Sei un vichingo ignorante Ecco perché non mi dispiace Ti manca una persona da nominare? No, a te non me ne frega proprio Di te non so più Non voglio sapere neanche se vivi o muori Ma sono meglio di Alex! Ragazzi, no, attenzione Se per caso avete la possibilità di rivivere spendendo qualcosa, non lo so E comunque voi nel caso fatelo, eh Siete ancora insieme? Non siamo qui Ancora squadra rossa contro blu, credo Ah, attenzione La squadra blu sta affrontando l'eliminazione Discutere che eliminare Allora Oh, io posso salvare me stesso Salvate Anna Salvate Anna Salvate Anna Ma costa 100 Robux a salvare se stessi Allora, allora Votate che eliminiamo Eliminiamo questo qua Pink Questa qua Vedete? Va bene Lo facciamo Io non posso partecipare all'eliminazione Perché chiaramente non sono parte del coso Però se tutti quanti votate quella In teoria È andata bene? Ma cosa sta succedendo? Dal nostro Iniezione! Oh, attenzione Il signor Maurizio Vabbè Quello lì Vuole dire quello che bisogna eliminare ragazzi Attenzione Allora No, perché sono tutti sicuri? Stregato No No No, ti prego No, Anna Anna Se mori e rimane stregato è la volta che veramente tiro giù il video L'ultimo al sicuro chi è? No, non Ma perché che mi ha votato? Sì, stregato di m***a Muori Su Alex Yuhu Dai, lo festeggiamo Peppe, peppe, peppe L'ho fulminato Stregato mi dispiace molto Ma perché? Ma io non volevo Siamo tutti tristi Red piange per stregato Per favore Oh no È una vera tristezza Che disgrazio Ma io ne ho capito Che devi fare qui? Anna, ma ti sta parlando Alex Ma è importante Devi schivare gli oggetti Che se non muori Grazie Prego Alex, prego Dici quello che volevi dire No, Ioni In questa sfida Tirerò un ciuschi fuori dalla mia trippa lardosa Per aiutarti Ci aiuterà questo ciuschi? Sì, assolutamente Farò da muro alle bambine qua Ah, muro alle bambine? Ma cosa? Cosa? Eh? Alle bambole, queste teste Alle bambole, sì Ok, ok, ho capito Ma dobbiamo risalire la corrente? No Dobbiamo resistere e basta Dai, non resisti Le mie chiappe enormi sono state gacciate fuori No, Alex Sei una sega inutile Ma come è così? No, Alex Anch'io sono stato calpestato Santo Dio Vabbè, ma qua Adesso Ha vinto Non ci posso credere Il campione Stragatto, tua madre non ti voleva No, ma come? Però dai, se vuoi posso provare a tornare Puoi spendere per tornare? Mi sa di sì Quanto costa? 150 Porca miseria Dai, va bene Va bene, va bene Spendi Vai, l'ho comprato Attenzione Gli altri sono ancora tutti in gioco? Ehi, Lion Siamo qui Duri, 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 duri Alla fine perderete Però Fino ad allora Sarà a vostro interesse Cercare di resistere La potenza, la Ionica Lo faremo E anche di Alex Ma Alex Perché sono sempre alla votazione? Io non è giusto Dove è Anna? Non sto con te, Lion Non sto più forte Aspetta, posso spendere di salvare un amico? No, che schifo C'è strecato Che schifo No, no, no Ma neanche per idea Pink Io voto Pink Non posso Fè, vota Pink Fè Non si può votare Pink Votiamo tutti Che che si può? Si può Vota Pink Vota Pink Vota Pink Ma perché c'è prima? Ma le facciamo un favore A votarla questa ogni volta Allora Fè, non mi morire Questa volta Eh, bravo, bravo Fè Che bello No, che schifo Ma perché se prima rimango? Dai Red, devi crepare Anna Anna, oppure questo alieno verde No, povera Nina Allora, Anna Se mori tu scioppi subito Perché non esiste che mori tu È possibile Anna non può essere eliminata Maurizio Costanzo Sì Anna è salva Evviva Non sono salva Non sei quello che effettivamente Viene eliminato Ma cosa sta dicendo? Ma quindi Anna è salva o no? No No Signor Maurizio Eh no Ti ha scagato Che fame È giusto Anna Scioppa Aspetta, ti salvo io Dal cuoricino qua dietro Però qualcuno ci sta targettando Cos'è sta storia? Anna ti sto salvando 150 robux Li spendo ipervolentieri No, no, ma non serve Sei tornata? No Torniamo al prossimo round In teoria Sei stata scioppata Anna Per poter tornare Dovrebbe essere ben chiara Questa cosa Perché ho speso 150 robux Ma che sono? Che sono? Anna Fregasci con la squadra nostra No, sporco Il demonio Oh sì, che bello Sono con te No, un parkour Alex No, Lion No Ma è difficilissimo Non ce la posso fare Questa è difficile No, Lion Salta Red, ci serve l'urlo unico Che solo Balamber Sa tirare fuori qua Facciamolo Facciamolo Che? Incitami ancora fratello Incitami Vai, Attila Grazie Balamber Ancora un po' Vai, se la puoi fare Sta funzionando Continua Fai goturioso Sei tutti noi Ho fatto, ho vinto Vai, Lion Ma davvero? Io non riesco ad andare avanti Ma come hai fatto? Sei un botto duro tu Perché l'istigazione Io sono Attila nel sangue Attila il flagello Di Dio E quindi Io ce la faccio Il mio figlio Balamber Mi stuzzica E mi dà l'energia Giusto Che schifo fai Io che sono piccolino piccolo Posso infilarmi Nelle tue scarpe Ah, ti ho dato un pugno in faccia Quindi stai qui Sei rovesciato Ma Anna ci sta riuscendo Dov'è Anna? No, non ci sta riuscendo Fratelli, noi siamo in vantaggio Ma Balamber Ecco Balamber Cadi C'è la miseria Ce l'ha fatta anche Balamber Eh vabbè È pur sempre una sfida Non posso fare Ma sei felice? Certo Perché è arrivato Fè Sono felice C'è E viva Fè Lion mi sa che Grazie Non mi dire Siamo pari al momento Eh ma c'è quel tizio che è lentissimo Eh ma anche il nostro è lentissimo Cioè è un pareggio questo No, no Mannaggia Siamo per perdere È un pareggio È un pareggio Perché ha vinto Ma era un pareggio Era un pareggio Non è giusto Sei da un quarto d'ora Sei zitto Che tu vali mezzo Ecco perché abbiamo perso Ah ecco perché Va bene Eliminazione Faccio votare Chi votiamo Ah stregato Oh io salvo me stesso adesso Oh ad Alex Attenzione però Perché io ricordo Che in un video recente Di una sfida Che abbiamo fatto Di costruzione case Alex ha fatto veramente brutta La casa Non so se voi l'avrete vista Ma probabilmente sì Perciò io voterò Alex No Lo parlo anche io E tu sovi vendetta Vero? Votiamo Alex Ricorda però Ricorda Non mi interessa Non mi interessa Non ci scrive la trippa Strei puoi scrivere in chat Così anche gli altri Possono votare Alex Nautz Ok lo scrivo subito Sì sì Perché è giusto Fai schifo Adesso ti votiamo Votiamo tutti Alex Votiamo Alex Che infame L'ho proprio scritto L'infame Alex Nautz Elimina Avevo anche un pulsante Per forzare L'eliminazione Ma non l'ho premuto Sono stato onesto Che gentile che sei Allora vediamo chi è al sicuro Stregatto Va bene Che bello Questo signore Va bene Quest'altro signore Ok Va bene la signorina Dai che salva tu adesso Sì E vediamo un po' Chi è che viene buttato fuori Chissà chi verrà buttato fuori Forse Alex No lo vuoi essere buttato fuori Io ti prego Alex Nel posto Nel buco Di sotto Alex Alex vieni al buco Sì Non voglio essere eliminato Guarda come viene nuclearizzato No Ma che peccato Ma io percepisco una cosa Come percepisco Una ubriacona vergognosa Che da 5 minuti beve e sta zitta Non è vero Anna come mai Non lo so Perché bevi L'urida beona Ma era solo un goccio d'acqua Dai qua devi prendere tutte le palle che puoi Eh tua madre è pratica Eh di fare questa modalità Eh Lei prende tutte le palle che può Eh È mia quella È pallosa Non dovevi dirlo Ma io non so farlo Alex Ah giusto Tanno delle palline bianche Le vedi in giro È vero Me ne ero dimenticato Ma scusa Posso sorprese con la chance Eh certo Oh grazie Torno tra poco Sì sì Io ho preso una pallina Eh ma siamo in svantaggio Stragatto Stragatto Le sto prendi Ho appena prese 4 Abbuffa No sfede Vai affanculo Queste sono No no Impossibile Che fame Ma siete in vantaggio È vero È vero Siamo in vantaggio adesso Che fortuna Continuiamo a prenderle tutte Più che possiamo Red Red Tu come sei al prendere le palle Sei pratico Devevo provarle tutte Se le prendo ogni giorno No no Fura Prox No sì sì Va bene Va bene È giusto Le palle Ci sono tanti tipi di palle C'è anche le palle del Boba T Hai mai assaggiato il Boba T Red Sì è buonissimo Quindi è quel tipo di palle Che ti piacciono Anche quelle del gelato È giusto È vero Ryan sei fiero Che li abbiamo tuffiati Vai zitto Vai schifo Adesso Squadra Delle eliminazione Votate Red Oppure Anna No 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 Perché Come oppure Anna È perché prima bevevi Trinca drink E dormivi Allora senti Mi hai rotto le scatole No tu le hai rotte le scatole È che è noioso Perché tutti quanti Stanno passando nella squadra 2 E io continuo a stare qua da sola Non sei da sola Sei da un fe Spalleggiano te No Red è una bega Red non piace a nessuno Fai Volevamo stare con te Fai l'unno che piaci di più Anche tu Red Se fai l'unno piaci Quando fanno gli unni E ce l'hanno nel sangue ragazzi Anche me del resto Ottila Alex invece non sei nulla No ma tornerò e farò l'unno per te Non sei l'unno Speriamo sia nella squadra nemica Allora facciamo il tipo Ragazzi votate Votate Laila Vabbè votata Votata Mandiamola via Speriamo che si salvi Anna ragazzi E non voglio che Anna perisca No per favore Un'altra volta no eh Ti scioppo di nuovo Anna Non ti preoccupare nel caso No non serve Non c'è bisogno Fè a te Non ti votare nessuno Sei simpatico Anche Red Vedi Oh no Anna negli ultimi due Ragazzi ti giuro mi fai schifo Perché so sempre tra gli ultimi due io Perché qualcuno ti vota Chi Non lo so strecato Dimmelo Dimmelo Qualcuno ti vota Anna sei salva Salva I cori Sì Sì Grazie che bello Ma il signor Maurizio Costanzo nell'aldilà ha deciso di fare questi giochi Non ho capito perché Hai capito Anna eh Chissà come mai Eh l'ho capito sì Un pochino di somiglianza senza nulla voler togliere Una Bell'uomo Insomma Però Cosa è successo? Perché al contrario? Non ho capito Che dobbiamo fare? Bisogna capire Il colore corretto E non ce n'hai colori Lo dice dopo mi sa E eccolo Qual è il colore? Qual è? Oh È l'arancione È l'arancione Ma dove sta l'arancione? Non pille l'arancione C'è il rosso Ma c'è l'arancione Ma porca trota No Ma come hanno vinto loro Scusate Ma scusami Alex Tu è colpa tua Alex Tua madre Ma io sono la scuola Quell'altro Adesso sono contro le te Ma chi è con me? Abbiamo vinto però Un regatto con te Allora va bene Abbiamo vinto Stringiamo forte Come dei veri compagni Schifo Tieni Oh bella pacca sulla spalla No era un pugno in bocca Era un pugno nei denti Che ti ha tolto tutti i denti Hai capito? Per favore Esatto Parla così per tutto il video adesso No non voglio che prego Un'eliminazione per voi Adesso mi buttano fuori di nuovo Allora Alex Nauz Attenzione Alex Nauz Tu puoi comprare Il forza voto E lo farai Assolutamente Forzando il voto Per quella lì Chiamata Elis Mi sembra Elis Che l'è la vera Eliminata Non mi piace Via Via Forza Sono l'unico Alex paga L'ho pagato Quanto hai pagato? Elis 300 300 300 300 Ma è un furto Alex Ma come ti viene in mezzo Alex sei un povero idiota A fare questo Però guarda Verrà eliminata adesso Ma ti immagini Adesso non la eliminano Alex Per qualche strada Sembra che siano rimaste Solo due possibilità Spina di nuovo Ma sempre Ma perché io? Secondo me Anna È quella lì Di Elis Che ti sta votando a te Sì Sicuri Sì Dì sì Va nel fosso È il fosso Ce la meriti Vada signor Costanzo La carbonizzi Come carbonizzi Ottimo Ottimo E adesso? Oh Ma siamo ancora in tantissimi Questo gioco è finito E se noi continuiamo a tornare Sì È vero Attenzione Da adesso e poi Non si torna più È stregato A questa pace Andiamo giù Ma smetti di parlare Come uno scemo Scusa Non lo faccio più Te lo giuro Ma l'ambero Bisogna il tuo tifo Ottimo Mi porti in spalla Ma del tuo tifo Non di richieste Vai Ottimo Ma sta succhiando Le palle Di nuovo Ce la puoi fare Ottimo Ma cosa stavi succhiando Le palle gelate No No Non è il momento No ragazzi Io non ci riesco Vai È difficilissimo Ragazzi è veramente Ma non si arrampica Ci sto Ma non si arrampica Anna vedi Beve prima E poi dopo Vedere il mondo All'incontrario Se lo dici Un'altra volta Vengo lì Eh Eh Se ti dà un bacione enorme Se lo toglie A posto suo Facchi bottiglia Eh No No Sarà meglio Dissocia da quello che dici Eh Da bottiglia ai zucchero Ragazzi Ci sono quelle bottiglie Di zucchero Che le spacchi E poi te le puoi anche mangiare Perché sono fatti di zucchero Che vuole Dai zitto Che mi dovevi fare il tifo Invece hai pensato a te stesso Ma non ti vergogni Che schifoso Che lo stagione idiota Votilo via C'è un voto di maggioranza Vai Buttatelo fuori No Non lo prego Votilo Adesso piangi Piangi mentre muori Perché Il Maurizio Eh Il Maurizio ti si porta No Votatelo Decidi tu Ah decidete voi Eh Red Red Votiamo red Ciao ciao red Ciao ciao red Ciao amici Nell'aldilà L'uno caduto No ma Aspetta Oh non mi dire che No Non mi dire Anna Un'altra volta No Per pietà eh Per pietà Per pietà Di nuovo Allo spareggio Perché 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 Quello lì Allora Ho votato red Summer Non lo so Non lo so Vabbè Sei stata squalificata Dai va bene così Mi dispiace Vabbè Ma siamo No non sono contento Tu dovevi morire al posto di Anna Scusa La prossima volta Mi butterò di proposito E c'è il minimo E il minimo che avresti dovuto fare Per Anna Hai completamente ragione Cosa bisogna fare qui Dobbiamo saltare la cosa che c'è al centro Lion è impossibile Oh no Oh no Allora Allora Stregatto Cade immediatamente Così iniziamo a Va bene Addio amici Ah ma c'è la coppa Sì ma io ero in vantaggio Stregatto è caduto Che stupido Oh no 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 Ho scioccato Le pale No no Rimangono due Vai Fè Vai Fè Vai Fè Aiuto Aiuto Redda Hai notato come nessuno fa il tifo per te Ah io voglio E' pure morto Vai Fè Vai Fè Vado Vai bravo Sei topo bravo 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 E' la finale C'è solo un retro Stima te Vai Fè Come stai facendo Guarda lì C'è ma è incredibile Ma abbiamo trovato il tuo talento segreto Hai vinto Hai vinto Ma che è impossibile Ma che è impossibile Ma che è impossibile Ma che è impossibile Cosa ha fatto Nella vita Non sai fare nulla Ma questa cosa la sai fare Incredibile Hai visto Balamber Ho sudato l'asciugamano Sì Ho stato l'uno più bravo di tutti i tempi Tu invece no Io no Però abbiamo vinto la squadra Sì è vero Torniamo dalla razzia con la conquista Insomma Però Comunque sei stato il più scarso della tribù Balamber Sì è vero Ah no aspetta c'è Alex Però avete perso me Io non sono della tribù degli uni Non c'è anche il mio nome da uno Ecco qua Fammi vedere se c'è qualcosa che puoi comprare Oh ma c'è un pulsante sabotaggio Ma cos'è Sfoca tutte le schermate Uccidere gli altri Mi sembra un po' Ma che caspita è Non lo fare Mi sembra un po' C'è sì Però il jumpscare lo vorrei vedere Lo farò dopo Quando sarà il momento Ryan mi dici chi votare Allora vota Quella infame secondo me ha votato Anna Rolo No devi votare Summer Prime Summer Prime Ma guarda che non è stato lui Perché votava la nostra squadra È sempre il primo che si salvava Anna Votate Rolo Ho votato Rolo Rolo Ho votato Rolo 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 è un infame Vedi che è sempre il primo che si salva Quello là Sì Serial quello lì Eh vedi vedi ora buttano fuori il Rolo Ti no lo va via L'invidiosa di Anna Vada signor Maurizio lo butti Alex sta dormendo No veramente faccio schifo Scusami sono un idiota Non volevo dormire Ti hai un pugno Lion Unneggialo Vedrai dopo cosa ti combino Brutto stupido E ti scioppi pure tutte le cose che ci sono Ma ho scioppato già tutto praticamente Non è ancora finita per te Non è abbastanza Lion si carico per la prossima prova Devi vincere Lo farò per te Anna Grazie Ecco cos'è questa La prima a raggiungere la fine del ponte O raccogliere più No questo è difficile Vado avanti io per te Tu segui la mia mia Ci mancherebbe altro Dopo quello che Lo schifo che hai fatto Ma sarebbe il minimo no 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 guarda Spero di non sbagliare Io sono molto fortunato Dai Qua Eh vai però Ma che sega No sono caduto da solo io ragazzi No perché Cioè incredibile Vai vai Red Fai il tuo Ok 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 amici di qua A posto Fantastico Vai Fem Vado qua Vado qua Ho cominciato buono No Abbiamo perso Questo potrebbe essere un problema Siamo persi tutti Ehi vado a perdere pure lui Eh no lui ha vinto Lei non trova il modo di cambiare squadra Così vieni da me Che schifo No rimani qui Ma guarda Quello Si ha preso pure più soldi Quel figlio di Buona mamma No Eh Cosa hai detto Ma vergognati No Fè Cosa hai detto Cosa ha detto Ho detto no Non ha detto no Cosa hai detto Ho detto no Io ho sentito Una inocine No no ho detto no Sei sicuro Sì sì sicuro Tu non diresti mai un'offesa Giusto No Mai è impossibile Poi la riascoltiamo Non dice questa Anna cosa ha detto E io mi è sembrato che dicesse no Beh no Ah ah quindi inteso Non ha detto una brutta parola Non mi permettere mai Di essere maleducato Lo sai Possiamo votare da adesso Però c'è anche Alex da votare No no Ma sia l'altro che non è dei nostri Eh ma lui è meglio di te però Ma è vero Dobbiamo votare noi chi vota Allora votate UGF Quello lì Vontato proprio di sotto Cadrà Speriamo Ma io non ho una brutta sensazione Che cazzo io Ma io me lo auguro guarda Meriti E invece Ma è giusto Fè No nooo Invece no Te l'hai legata davvero al dito Che burla Eh vabbè Sei eliminato E' finito Allerto Giustamente il gioco prima o poi lo avrà pur finire Mi dispiace Balamber dovevi essere tu al suo posto è vero dovevo buttarmi subito insomma non ti sacrifichi proprio per nessuno tu sei un egoista così ottila siamo tutti da soli adesso perché l'eliminazione mi sa solo i vincitori di ogni migli gioco saranno al sicuro dall'eliminazione aia perché a me perché fai schifo io ti salverò lion devi vincere facciamo ultimo per te lion grazie allora bisogna stare attenti red tu immediatamente ti fai squalificare e vai fuori dal gioco ma io dove sono bisogna schifare attento ok tutto chiaro è facile attento lion un po' di tifo qua vai grazie è un campione lion puoi usare il pugno per sabotare qualcuno ha sabotato attenzione attenzione ho sabotato di nuovo ho sabotato di nuovo è morto alex ho sabotato meglio via centro bravo no perché ma sto facendo il tifo per te ma non c'è più spazio lion ho sabotato questo no 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 però dai n'hai visto ero io che avevo vinto dai zitto sono senza parole no stre buttiamo fuori alex perché siamo arrabbiati oh mi scioppo che voglio mi salvo dall'eliminazione va bene è giusto è giusto così è giusto perché perché prima io ero salvo sono stato io l'ultimo non quello lì votiamo non si può manco votare perché ha l'eliminazione si è salvato all'eliminazione questo schifoso eh oh è vero immune che infame e adesso scusa chi vota chi buttare fuori tutti votiamo capito però io non dovrei essere votabile io perché ho scioppato perché io sono qua ti ti salverà per primo sicuro no non ti si può votare mi sa però chi votiamo lion red 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 votato di brutto così impari piangi posso votare le chioppe di olex no 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 chi fa ti voti da solo ho voto antipatico è stupido ecco ma lo salvo però non lo sento ancora salvo tu no io non ero votabile quindi lion sei rimasto tu e lui lion sei rimasto te e red no non lo farei mai attimo io ho scioppato no io ho scioppato dai lion no di che sei tu di che sei tu io ho scioppato ti sei tu si mamma mia scioppato porca puttanga ma di no non ho detto niente non ho detto niente tu muori io zitto lion sciacquati dalle palle oh adesso eh adesso è più complicato perché puglia in pancia era in bocca sempre ah ok adesso oh no di nuovo lion devi vincere per noi come si fa questa eh devi aspettare il momento propizio ho capito ho capito come so quando è il momento propizio quando è il momento aspetta ancora un po' ora no ora è presto non mi dire non mi dire ora che devo decidere io è velocissimo è troppo veloce decidite oh ma tu no 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 siamo tutti qua è l'ingiustizia ragazzi bisogna 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 votare gli altri perché cioè io alla fine del gioco a voi vi posso dire uscite così vinco io come un bimbo frignone e stupido però agli altri non glielo possiamo dire quindi lion votiamo summer che è quello che vince sempre da uno schifoso ottima idea e anche quello che si salva sempre per primo secondo me scioppa pure lui io mi non si salva l'infame io mi compro di nuovo che non posso essere vai bene ho più idea bravissimo lion non me lo fa comprare ok si l'ho comprato mica sono scemo io e tu non verrai più furbo no non furbo io e adesso? adesso bisogna andare a votazione ok ok allora mi raccomando vai lion che ti salvi allora votiamo summer prime 8 va bene lo voteremo e lo buttiamo fuori ha rotto le palle questo pensava di vincere ma gli diamo la lezione no no non vince nulla non vince a vincere lion ma però anche uggeti fai quello lì vince sempre quello dopo quello pure tenacissimo lui votiamo prima uggeti fai invece va bene allora ripeto votiamo uggeti fai quello lì lì d'accordo capitano ok ma non ci sta facendo e no è perché ha cambiato le regole ma porca e che cosa che regole ha e decidevano quelli eliminati ma vaffanculo Anna no no io non potevo e mo vabbè uno e vabbè mai fatti a me non ce ne frega nulla va bene lo stesso va bene lo stesso sì speriamo che mo youg ti fai ah sì lo muore va bene va bene valamber tu hai potuto votare per caso sì ma vedi valamber dall'oltre tomba no è andato fuori sunburn è ancora meglio vabbè ma non ce ne frega nulla perché va bene lo stesso adesso stregato lo facciamo eliminare subito no 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 tu mi vuoi tenere alla fine alla fine va bene alla fine alla fine grazie ok eliminiamo tutti ci abbiamo una maggioranza di voto allora cosa bisogna fare qui battere il percorso no questo è difficilissimo no io credo in te io lo so che te ce la fai non so dove bisogna andare non ne ho idea di qua dritto vai lion è tuo no io sono già caduto vabbè ma ragazzi è impossibile è veramente impossibile no no è troppo difficile non ce la faremo mai nulla è possibile per te lion grazie tu il di là niente è fortissimo invece questo è impossibile però ho dato un cazzotto a uno e l'ho fatto cadere quindi positivo questo positivo frutta anche il dash lion no non lo so fare è una skill troppo difficile Alex aspettami sì sì io ti preoccupare aia no allora lion bisogna che te impari una cosa ogni volta che cerchi di sabotare perdi è vero questo non lo fare mai più ok non riesco a resistere eh eh non riesco a resistere e devi farlo perché perdi sempre pure prima per sabotare uno hai perso aia e ma lei ci vuole sempre abbracciare è vero ah wow ah bravo si ci mi puoi allora io mi scioppo di nuovo di salvare me stesso a questo ma posso sapere quanto stai spendendo per sta modalità cento a botta però tu stai parlando lontana dal microfono ingobbita rimbandita non è vero sono proprio qui datti cosa non devi mai dire che non è vero eh cosa hai detto che non è vero ma sei un ubriacono affettente allora adesso ti voto per andare io che votiamo io che votiamo page no votato ok ok votato sì ma io scioppo il forza elimina o manda a quel paese vai sì sì bravo vai 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 usi i tuoi poteri vai vai qui usiamo lo shopping il potere dello shopping eh va fuori lui sì adesso lui pensa di poter far andare a me ma non esiste io ho scioppato e ho scioppato anche per la sua morte Anna stai zitto e c'è suspense qua bravo adesso adesso bisogna far eliminare page 1 oppure anche serial jack weller che è anche quello lì quello lì vince sempre capire c'è sto un botto anche lui ma quello vince l'incolumità non si può cacciare se vince lui beh ma adesso noi approfittiamo quando non vince forse non hai capito tu devi vincere va bene mi concentro cos'è questo quando la musica si ferma prendi una sedia questo è il gioco che Alex piangeva da bambino no esatto ci sono anche un pietro po' grande si incastrava sulla sedia ok ok allora attenzione Alex Strei anche tu io appunto a sabotare l'altro e mai mi lasciate ma dove sono le sedie non lo so ma non sono le sedie scusa no si dove sono le sedie le sedie ti vede che compaiono dopo dove è la sedia hai una paura dove dove ma non sono le sedie ma non sono le sedie ma dove sono le sedie adesso la siedo io la siedo l'ho seduta l'ho seduta no io ho seduto sedia e vabbè quando mai ok 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 Strei Strei mi raccomando se ne vedi una guarda mi ci lancio dalla parte opposta no me la lasci eh sì sì te la lascio te lo sento vai barri non ne vedo neanche una quella è mia quella vai è tua è tua grazie Strei sei un amico bravissimo Lion ok ok ti ho capito ma adesso non c'è più nessuno che ti fa favori bisogna che ti concentri tira i pugni tira i pugni io ho lo sprint posso usare quello ma ditemi quando cadono perché io non le vedo ste sedie arrivano ecco lei non l'hai visto non l'hai visto non l'hai visto le cale palle no no sono l'altro fermo concentra sì vai Lion confido in te l'ho fatto cadere non l'ho fatto cadere dove sono le sedie oh ancora no ancora non ci sono ehi arriva no vai 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 la pesa ciocchia 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 è il milione è il milione 20.000 Lion ok sono immune adesso eh ragazzi credo bravissimo bravissimo allora votiamo come ti senti ad avere l'immunità molto bene ma questo è uno squid game ragazzi ho 35 minuti di gioco bravo via ah ma bisogna vincere allora fuori dalle palle votiamo quello lì Jack Weller che è fortissimo va bene lo eliminiamo subito fastidioso vattene via facciamo l'eliminazione i nostri voti dovrebbero essere eh no perché tu non voti me sa sei safe e quindi votate in due ma io forse l'eliminazione ah sei disposto a fare questa spesa va bene Alex fallo immediatamente su forse c'è Jack Weller vai va bene adesso lo voto di brutto ah non ci faremo prendere in giro eh eh no no è qua il gioco è il nostro dai noi li faremo in finale hai fatto è eliminato sì sì performance eccellente da ingannatore ottimo ottimo mamma mia che sfida ok ah lui vuole fare ancora sfide il signor Costanzo d'accordo d'accordo ah ne siamo salvi in finale ok ok rimane page one da eliminare e poi elimineremo il prossimo round sì però io noto che molta gente si è addormentata ci diamo degli schiaffi di gruppo fe red Anna eh uè schiaffoni adesso subito schiaffoni schiaffoni virtuali ma schiaffoni forza schiaffoni dai oh Anna cosa vuoi devi parlare se no mi ferisci ogni volta che lo dici perché significa che non mi ascolti ma io ti ho ascoltata hai parlato poco è molto c'è molto da dire è un altro parkour oh no e mo voglio vedere te la puoi fare concentrati vedi i tubi entrano i tubi escono sì vai 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 è tuo è tuo il parkour ho già sbagliato è caduto è caduto è caduto aspetta aspetta vai ho fatto cadere aspetta aspetta vai 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 non c'è no vai 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 non devi saltare e non lo so fare no 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 non deve vincere lui non deve vincere lui Anna non lo so fare tu l'arancione non devi saltare perché si muove ma il tipo ha sabotato ma vincere il tipo ma compere no dimmi che casca tanto indotta quello che cade lo so faccio un sabotaggio faccio un sabotaggio gli faccio jumpscare tutti magari lo distrae e cade vai faglielo ho fatto è partito no non ancora come no è caduto è caduto no è sopra ma porca cazzozza corri ma vaffan cur no 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 ragazzi non esiste non esiste non esiste no ha vinto di columità lion ascoltami bene alex fuori subito facciamo vai vai non c'è niente da fare dai no lion lo accetto no no mi dispiace ma è così è così doveva andare fuori questo qui beh lo so questo qua è un fetente schifo comunque dopo bisogna perché tu non ascolti le mie linee guida perché altrimenti dovresti vinto era molto difficile non è vero ti giuro tu devi concentrarti invece tu ti concentri a fare lo scemo balamber ritendimi attila non è uno scemo esatto è possente ha fatto bene finché ha potuto è il più forte di mondi adesso adesso votiamo alex però eh votate bene votati anche ho pensato un attimo no non posso votarmi da solo posso votare il stregatto però sì in effetti tre già vota votiamo il stregatto io ho votato alex ma come cambio di prospettiva all'ultimo attenzione avevamo un piano eh lo so ma mi dispiace addio stregatto ciao ciao no e se voto è cattivo e se tocca a me no io ho votato alex io ho votato alex io signor maurizio che ti salvi no 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 stava scherzando mi ho preso in giro per la fine preppa maledetto lion si salva allora alex adesso attenzione siamo rimasti siamo in tre eh fratelli siamo in tre bisogna e adesso cosa succede è è una bella pregunta quella che mi poni non lo so bisogna evitare che lui vince io ho fatto il pugno se lui vince l'immunità è finita eh tanto siete tre se uno vince non è possibile che vi scegliete a vicenda premio un pulsante casuale se premi quello sbagliato potresti avere una nottata nella lava no questo è casuale no cazzo che cosa dobbiamo scegliere lion ma se sceglie quello giusto io non voglio sceglielo oh ma lui guarda tocca a lui ti prego vai nella lava vai nella lava ragazzi concentriamoci ti prego è andato nella lava oh oh no ok scegli uno che ti piace no lion ok è stato da me ti prego ti prego quello sbagliato quello sbagliato mi sa che ve lo fa vedere adesso addio lion no alex alex questo è un problema però perché adesso io sono con lui lion devi vincere te lo puoi fare sei tutti noi lion ce la fai ce la fai questo pezzo di dai lion questo sbaglia sbaglia tanto vai di sotto dai dai sbaglia su ha sbagliato è sbagliato c'è un ucchia c'è un ucchia bravo vieni su lion allora adesso alex devi forzare il voto quanti robux hai ma mi sa che non si si può votare è impossibile che vota lui è vero perché sarebbe un voto contro un voto esatto no no sceglie lui voterai tu forse o forse voterò io sì sì o gli illuminati guarda come lo prendo in giro bravo la potenza di balamber di attila anche il re dei unioni vai zitto stre non sei un uno non sei un unioni non puoi far parte ma faccio il tipo per unioni ma non puoi non sei parte non sei parte allora sì annaxina principessa guerriera sono io ok voto io come funziona adesso se voto io vota chi pensi mi sa che voto io voto lui alex vai lion eliminalo e tu poi mi lasci vincere però alex ma ovvio ok voto page one ecco qua eliminato andava affatto per arrivare fino alla fine oh yeah oh yeah alex abbiamo un patto mamma mia abbiamo vinto lion non ti preoccupare no io ho vinto tu hai vinto ok altrimenti altrimenti buttavo fuori a te se facevi l'indare no infatti però no no tu hai vinto ok ok va giù e va lui si adesso adesso la sfida finale la finalissima no no tu vinci tu mori subito si assolutamente magari sarà un combattimento se nel caso ti butti da solo nella lava va bene vediamo cosa dice chi è sta gente oh no ma qua votano la performance devi mangiare oh no alex tu non mangiare no non mangio e cosa bisogna fare non è che se mangi proprio bene sedetevi al tavolo oh no e se è casuale no lion non voglio che sia casuale ma ci sono degli occhi nel piatto che schifo si che schifo al mio c'è un piede superissimo è buono allora mangiamo alex mangia prima tu mangia prima io gna 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 che buono magari una cena per prepararci alla sfida abbiamo mangiato si non è successo nulla era buono ah è normale che schifo e mo stai bene non è successo niente che succede oh ci siamo anche noi ah che figo magari decidiamo noi è tempo che la giuria decide chi eliminere alex ragazzi alex 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 fratelli siamo tutti hai già capito hai capito bene ho votato alex votate alex alex mi dispiace vuoi provare a convincere qualcuno magari potete votare lion perché almeno è un simbolo di vittoria tutti noi stai zitto suca suca ma io sei tu il migliore sono io non mi ha convinti per nulla alex non hai il buco no nel buco no vince voglio dedicare questa vittoria ai miei amici tuldi la balamber annaxina anche un po' astregato però perché anche lui ah che bello grazie sono pieno e mentre guardiamo alex esplodere nel buco siamo tutti contenti signor costanzo cosa fa con quegli occhi si è allungata la faccia ho visto per un attimo vabbè bellissimo anche il naso lo fa ragazzi è finita o si abbiamo finalmente finito è stato pazzesco guarda il trofeo sopra la mia testa che bello c'è anche la torta oh i soldi questi sono per me hai vinto il montepremi la donna è la tortona che bello vogliamo un affetto adesso ragazzi però ci fermiamo grazie di aver guardato questo video e lion out ciao